Cyber Bullismo, guida per i ragazzi fatta dai ragazzi. Questa è l'iniziativa promossa da un gruppo di alunni del liceo classico Giorgia Spurini di Nuoro, coordinati dal docente Edoardo Marchese Patti, in collaborazione con l'associazione Vavabele, che vuole essere un supporto ai ragazzi che dovessero confrontarsi col fenomeno del bullismo e dalla sua versione evoluta di cyberbullismo. Una guida, scrivono gli autori nella prima pagina del volumetto, per sensibilizzare i ragazzi, le famiglie e gli insegnanti all'utilizzo adeguato e moderato dei social network e infarmare su alcuni rischi che comporta la rete. Dieci pagine di agile lettura, ma in cui sono condensati alcuni principi guida per evitare di cadere nella trappola di chi utilizza la rete e i social network per danneggiare gli altri, in particolare per atti di bullismo. La guida è stata presentata sabato nel corso di un incontro ospitato nella Lamagna del liceo classico. I lavori sono stati coordinati dal dirigente Antonio Fadda. A questi hanno preso parte i ragazzi che hanno redato l'opuscolo e anche alcuni componenti della Polizia di Stato. A partire dal vicequestore vicario di Nuoro, Giusi Stellino, la questura ha ispirato alcuni anni fa la Costituzione dell'Osservatorio Provinciale sul Bullismo, un'istituzione che ha fatto scuola in tutta Italia. Il volume contiene le regole per convivere con la rete, le definizioni di bullismo e cyberbullismo, con la distinzione delle diverse tipologie, i comportamenti da tenere in caso si sia amici della vittima o amici dell'aggressore oppure testimoni di atti di bullismo e cyberbullismo. Una guida che si conclude con un invito a non innescare il circolo della vendetta. Che il bullismo sia una grave minaccia per la serenità dei ragazzi e delle loro famiglie è dimostrato dalla tragica vicenda di Amanda Todd, rievocata nel corso dell'incontro. Amanda era una ragazza quindicenne di Vancouver in Canada, vittima di cyberbullismo, perseguitata in rete fino ad essere costretta al suicidio. Ma prima del tragico gesto, Amanda postò su YouTube un video in cui ha raccontato la sua tragica vicenda. Un'odissea che nel suo sviluppo è tragico finale e ne richiama tante altre, che conferma l'utilità di una guida come quella radatta dai liceali nuoresi. A volte l'aiuto...